Ancora una farmacia nel Mirino, stavolta è toccato alla Del Popolo sul Viale Giostra. Poco dopo le 19 di ieri un uomo, con il volto travisato e probabilmente armato, è entrato nella farmacia minacciando la consegna dell'incasso. Il rapinatore è stato velocissimo, in pochi secondi è passato dall'altra parte del bancone, ha aperto la cassa, ha preso i soldi ed è fuggito, dileguandosi nelle vie adiacenti. Sul posto sono intervenuti gli uomini della sezione volanti, ma al loro arrivo del malvivente non c'era più traccia. La polizia ha già raccolto diverse testimonianze e sequestrato le immagini di videosorveglianza della zona per cercare di risalire al più presto all'identità del rapinatore.